Musica Musica Intanto cosa dicono veloci? È arrivato la mail di Ruiu No, no, no Ruiu E' l'ultima speranza degli interisti No, no, per piacere Leggi subito, leggi veloce Come dicevo, sorpasso tra 7 giorni Ruiu da casa non riesce a contenersi No, no, no Ma sta fidanzata, sta un po' Ma Ruiu e Benaglio In intimità, in intimità Ruiu e Benaglio, a rogo Va bene ragazzi, però se Ruiu sgorga spontanea la previsione Non può tratterersi e ce la scrive Attenti all'Inter, che attacca Ancora Quarinna, che viene in avanti Ancora Quarinna, guadagna il fondo La deve mettere in mezzo Guarda Ruiu Ho notato una maggior convinzione nell'Inter Da quando Ruiu ha detto Ormai finisce così Sorpasso tra 7 giorni È cambiata la partita L'Inter ha un nuovo atteggiamento in campo Forza, ancora Ritter che attacca Attenzione ancora l'apertura di Cassano Palassio cerca l'angolo Tiro di Palassio Una palla Non possiamo chiedere una smentita a Ruiu in diretta Temo che Ruiu non voglia smentire Avanza il Torino che rischia di passare palla indietro con Brighi Palla in profondità Errore Rolando andiamo incontro al pallone Non stiamo lì a farci coprire i giocatori dell'Inter Adesso ti viene il Torino A farci le pugnette Attenzione Ancora Cassano Ho paura Ruiu Ho paura Zanetti Zanetti Guadagni al fondo Zanetti In mezzo No 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 Grazie Cristiano Cambiasso Scrivi ancora Scrivi ancora Scrivi ancora Cambiasso Fabio Zanetti Cambiasso Zanetti Cambiasso Zanetti Cambiasso Zanetti 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 Zanetti